E' il fare rete tra Stato, autonomie locali e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi. Consigli il capo dello Stato in un messaggio ai prefetti per il 2 giugno e aggiunge Mattarella bisogna operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse a cominciare dal PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza resta al centro del dibattito politico e non senza polemiche anche tra Governo e Corte dei Conti in seguito ad un emendamento della maggioranza in Commissione che allenta il controllo dei giudici contabili sul PNRR. Tra poco l'audizione del Presidente della Corte dei Conti Carlino che nel pomeriggio avrà un vertice con i rappresentanti del Governo. Intanto il Ministro per gli Affari Europei, Fitto, rassicura nessun ritardo. Questo dà l'idea che non solamente siamo assolente nei termini previsti che sono quelli del 31 agosto come la Commissione Europea ha più volte sottolineato, quindi anche qui. Le opposizioni invece vanno all'attacco con la segretaria del PD, Elislein, che dice no all'utilizzo dei fondi per produrre munizioni e armi sulla stessa linea verdi e sinistra italiana che protestano davanti al Parlamento.